Bene, finito nell'area di servizio, adesso abbiamo cambiato la nazione Berlino via 8, 99, 9 Adesso andiamo Ragazzi, a dove? Allora, qui siamo sulla Autobank A8 e questo è lo svincolo per Nuremberg a Berlino Siamo vicino a Monaco di Baviera Sono le 12.04 E ho 3 ore e 9 minuti di guida Da Bressanone Fa un po' vedere Il giorno intero per ora sono a 7 ore e 38 minuti Quindi dovrei, devo metterci anche la decima ora per arrivare all'area di servizio Quella dove arrivo di solito alla Cushinger Forst e Host Sull'autoban A9 Adesso qui andiamo a prendere l'A99 se non sbaglio Sì Sì, questa qui è l'A99 Va boh, a dopo Allora, qui siamo dove la 99 Va lo svincolo con l'autostrada 9 per andare a Nuremberg a Berlino Noi, qui, qui, qui Non scrive, quando adesso vediamo sebbene lo fanno andare a via Adesso c'è l'italiano, il mancoello italiano. Abbiamo lasciato Monaco di Baviera e adesso siamo sull'autostrada A9. Ci siamo sicuramente, tra pochi secondi, questa è la A9 e questa ce la teniamo fino a Berlino. Ragazzi, a poi. Allora, ho deciso di fermarmi e mi è venuta fuori la, visto che sono quattro ore che guido, la auto off Holledau. Vediamo un po', non ci sono mai stato qua. Come tutte le auto off bisogna uscire dall'autostrada. Fatemi capire da che banda. Lì c'è Monaco di Baviera, ma non è quello che mi interessa. E' fantastico. Qui, guarda, due metri e mezzo, quindi non si passa. Qui sono tutti i divieti d'accesso. E allora, che diamine ci sto a fare io qua? E' fantastico. Vedo che, come tutti i posti del genere, i bagni sono a pagamento per cui la gente va a farla fuori. E adesso ce ne andiamo da un'altra parte, per fortuna che ho ancora mezz'ora di guida. Se fossi stato con i minuti alla gola sarebbe stata molto brutta la sorpresa. Ma vabbè. Poi magari chiedo a un collega che lui queste auto off le frequenta molto più di me. e mi dice che c'era il posto da un'altra parte per passare. Ma comunque, sia quel che sia, stavolta è andata così. E' veramente forte. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. qui ha cominciato a piovere che poco nevi schiava anche o perlomeno cadevano giù delle goccioline che sembravano gelate qui abbiamo la polisai o no? no, non sembra non sembra essere un poliziotto dall'aspetto il tipo facciamo un po' qui inizia? non era un auto off ma un'area di servizio va beh, fa lo stesso non ha soddisfatto le mie esigenze va beh, pazienza ragazzi, a voi c'è un altro posto vediamo se troviamo un buco qua vi vedo tutti in belli accatastati io c'ho già 4 ore e 15 di guida grazie a tutti no no questo non è il posto che fa per me poi ad un giuda c'è un qualche cosa che somiglia a una rotonda? si c'è scusa capo hai ragione non mi sono vediamo un po' è qui che ci sono le aree niente da fare non è neanche questo il posto che fa per me adesso mi malediranno perché faccio il contrario di quello che va fatto invece di fare in giro come fanno tutte le persone per bene quest'area di servizio è buonina non 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 ecco potrei mettermi dove era questa bisarca qua ma mi sembra un'idea da poco niente un'altra un'altra idea sballata dobbiamo impararsi per pausa si lo so grazie adesso adesso mi preparerò area di parcheggio ultima possibilità dopo dopo siamo nei guai che fa il cassemobile intanto che lui ci pensa io mi metto qua 4 ore e 22 minuti di guida ce l'abbiamo fatta ah poi ragazzi dimenticavo buon appetito a tutti allora sono le 14.10 sono ripartito dall'area di parcheggio e adesso fra un po' dovrei arrivare all'area all'area di servizio come la mia solita andiamo un po' ora adesso qui ho il parabrezza sporco perché poi il piano mobile davanti quando mi ha sorpassato prendendo un avvallamento mi ha scaraventato addosso un po' di roba secca che ha attaccata bisogna che aspetto che il parabrezza sia ben bagnato per dare una passata altrimenti spargo solo la roba e basta vado ragazzi eccoci qua pochi minuti e siamo arrivati da qui arrivare a berlino sono 500 km secondo il segnale stradale secondo quello che mi ricordo io per arrivare a berlino all'avus sono 490 km qui più vicino comunque al momento posti ce ne sono liberi personalmente cerco di andare un po' più su perché qua più su sulla sinistra ci sono i bagni per gli autisti esatto proprio questi qua che sono gratis mentre invece quelli dell'area di servizio del benzinaio e quelli lì dal ristorante sono a pagamento e non sono solitamente non sono così sporchi andiamo un po' indietro lasciamo libero lasciamo un po' di spazio qui deve passare ragazzi la mia giornata lavorativa giriamo un po' così la mia giornata lavorativa dicevo questa è finita io per oggi alle 14.20 sono arrivato per oggi direi che ho lavorato abbastanza ragazzi ci vediamo domani ciao a tutti